bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi la domanda che tutti noi volevamo sapere se pinnacoli verrà distrutta è ufficiale ragazzi pinnacoli verrà distrutta ma non dalla meteora non dalla meteora ragazzi è una notizia dell'ultima ora lo si potrà sapere lo si poteva sapere solo andando su dei forum americani dedicati a fortnite ragazzi oggi 20 aprile alle ore 6 di pomeriggio americane che vuol dire alla nostra mezzanotte ok nei server americani un sacco di giocatori si sono dati appuntamento per atterrare a pinnacoli e raderla al suolo tutto ragazzi tutto alberi macchine pietre tutto strade edifici tutto quello che c'è e poi tutti a ballare dentro ragazzi è una notizia ufficialissima anche io non ci riesco a credere nel senso perché deve essere allucinante quindi se non avete niente da fare stasera mezzanotte mi raccomando io credo che bisogna cambiare il server quindi andare in quegli americani lo fate dalle impostazioni del gioco provate a fare le partite in singolo e ad atterrare a pinnacoli c'è un evento si chiama non ha un nome questo evento però dice cito testuali parole dai forum scusate per l'inglese oggi a 6 o'clock p.m. est quindi l'oro di new york noi tutti si danno appuntamento per mettersi in coda nella modalità singola e vanno a distruggere tutto every tree every building every car once everything is gone we all have a massive dance party to pay respects to the city cioè praticamente si è quasi certi che pinnacoli vela distrutta e tutti vogliono ballare per o rendere omaggio a pinnacoli beh ragazzi secondo me questa roba qua non la sapevate quindi stasera mezzanotte server europe server americano tutti su pinnacoli io vi ringrazio per aver guardato questo video mi raccomando mettete un bel like iscrivetevi al canale e noi ci vediamo presto ciao